grazie cosa significa portare la luce ai popoli questo deve fare gesù portare la luce ai popoli significa ai questi che in occhi degli israeli erano pagani quindi cosa questo significa e come possiamo capire oggi significa questo che io e questi pagani faccio la luce e faccio illuminare solo una strada e devo andare con questa strada penso che no perché quando immagino la situazione in quella si possiamo trovare quando siamo in un posto buio c'è luce davanti a noi e improvviso riconosciamo varie cose varie opportunità varie strade e possiamo da noi decidere quale strada prendiamo possiamo vedere questa strada lì questa la questa qui e io posso un po camminare qui un po camminare la e vedere informarmi e scegliere e penso che troppo spesso anche il nostro contesto dei cristiani quando ci chiediamo cosa significa che possa la chiesa porta la luce che illumina Cristo e questo significa che io proprio ti dico dove è giusto penso che no perché questo come dire la luce portare la luce illuminare tanto più ampio portare la luce vedere varie cose nella luce e potere scegliere lasciare questo non abbagliare qualcuno non imitare la strada ma dare a uno oppure sostenere la importanza di capire più cose informare avere la possibilità di scegliere dentro noi e trovare la strada che io scopro in mia coscienza che è giusta così capisco che è stato